Buongiorno a tutti, qui è Joseph da New York e benvenuti a questa nuova edizione di Live in News. Come vedete dal titolo del nostro video, oggi l'argomento è l'impeachment del presidente Trump. Il nostro titolo è giustizia o farsa. Questo è un argomento sicuramente molto controverso e anche un argomento però molto politicizzato. Quello che vedo in giro è che più che dare una descrizione di che cos'è l'impeachment e perché questo impeachment è avvenuto, in verità si parte già con un atto o di accusa o di assoluzione. Quindi oggi cercherò di darvi alcune informazioni in modo neutro e poi ovviamente alla fine vi darò anche la mia opinione perché ovviamente lo scopo sempre di questi nostri video è quello di generare una discussione. Quindi partiamo innanzitutto su che cos'è l'impeachment. L'impeachment è una procedura che è prevista nella Costituzione americana per mettere sotto accusa un presidente, un vicepresidente o un altro alto ufficiale. È una procedura che è disciplinata non molto estensivamente perché ovviamente è un processo politico, ha alcune connotazioni legali e giudiziarie ma in verità è uno stato d'accusa politico. In America abbiamo il congresso che sarebbe l'organo legislativo che non è chiamato Parlamento perché in America la democrazia non è direttamente rappresentativa, la Camera dei rappresentanti del Senato hanno due funzioni abbastanza diverse e sono eletti in modo diverso. brevemente la Camera dei rappresentanti che sarebbe la House of Representatives ha 435 rappresentanti, ogni stato in America che sono 50 eleggono un numero di rappresentanti che è proporzionale al numero della popolazione. Quindi la California per esempio che ha una tra le più alte numero di popolazione elegge 34 rappresentanti, il Rhode Island che è uno dei più piccoli con una delle popolazioni più basse e ne elegge solamente due. Il Senato invece ha due senatori per ogni stato, quindi sono 50 stati e 100 senatori per un totale di 535 congressmen. La competenza delle due Camere è diversa nell'impeachment. Il procedimento inizia con un atto di accusa fatto dalla House of Representatives, quindi è l'unica Camera, è quella dei rappresentanti che è quella che formula le accuse, quindi è quella che decide se un impeachment esiste o no, ovviamente presume che esiste e formula l'atto di accusa che viene mandato al Senato. Il Senato è dove avviene il trial, che sarebbe il processo, chiamato processo anche se non è un processo giudiziario a tutti gli effetti, tanto che non c'è un vero e proprio giudice che gestisce il processo, non ci sono dei veri e propri giurati. È vero che il processo viene gestito da quello che è il Presidente della Corte Suprema, ma appunto per il suo ruolo, esperienza e statura professionale. I senatori sono quelli che votano su quelli che sono i capi di accusa. La Costituzione americana prevede che una condanna all'esito dell'impeachment deve essere approvata dal 75% dei senatori. Ovviamente per evitare, questa quindi è una maggioranza qualificata, lo scopo è quello di evitare che l'impeachment possa essere una decisione partisan, di parte, e richiede invece una soluzione, una decisione bipartisan, quindi ovviamente una maggioranza che sia qualificata di almeno due terzi dei senatori. E questa è come, diciamo, brevemente funziona la procedura. Quali sono gli esiti possibili di un impeachment? Sono l'assoluzione e la condanna. L'assoluzione ovviamente sulla base delle prove presentate viene ritenuto che le accuse non sono fondate, quindi il Presidente viene acquitted, come si dice qui, assolto, oppure conviction, che sarebbe la condanna, risultano nella rimozione dell'ufficiale, dell'ufficiale, in questo caso il Presidente, dal suo incarico. Ora, ovviamente forse per i nostri spettatori più giovani non lo ricordano, ma l'ultimo impeachment è stato di fatto tra gli anni 70 e 80 con lo scandalo di Nixon. E faccio riferimento solo brevemente perché comunque quello che è successo con l'impeachment di Nixon vi dà un attimo l'idea di che cos'è l'impeachment e come funziona. Nonostante quello scandalo fu ovviamente enorme, c'erano delle prove abbastanza schiaccianti, c'era addirittura una smoking gun, sarebbe la pistola fumante, sarebbe la prova, diciamo, inconfutabile della responsabilità di Nixon. Ecco, quel procedimento non si concluse con l'impeachment di Nixon. Nixon rassegnò le sue dimissioni e quindi rinunciò volontariamente al suo incarico. Quindi a quel punto un Presidente torna a un privato cittadino, tant'è che Ford, che prese poi il suo posto, firmò un'amnistia a favore di Nixon. Però qui stiamo parlando di una vicenda estremamente seria, con delle prove estremamente schiaccianti. Arriviamo al sodo invece di perché Trump ha visto questa procedura iniziare contro di lui, ed è la famosa telefonata fatta con il Presidente dell'Ucraina. Sostanzialmente, facendo la storia brevemente, ovviamente è anche disponibile la trascrizione in inglese della telefonata, appunto, tra il Presidente Trump e il Presidente ucraino, dove sostanzialmente vengono discussi aiuti economici da parte degli Stati Uniti verso l'Ucraina. L'Ucraina che ha un nuovo Presidente, un Presidente che ha vinto con slogan riferiti principalmente a combattere la corruzione nel proprio paese, in Ucraina. Quindi, sostanzialmente, Trump fa riferimento a questi finanziamenti che erano stati discussi nella precedente legislazione Obama, e è qui dove comincia di fatto poi la guerra partigiana. Io, anche se non parlate inglese, vi invito a trovare il testo della trascrizione, lo potete tranquillamente tradurre con Google Translator in italiano, ci vogliono 5 minuti, forse non... ovviamente il dettaglio, come si dice qua, the devil is in the details, il diavolo è nei dettagli, però ecco, avete sicuramente un'idea generale. Se poi volete in particolare un approfondimento su questo, appunto, lo potete chiedere nei commenti e sarei più contento di farlo per voi. In ogni caso, questo è il generale contenuto della conversazione. Il dibattito nasce dal fatto che i democratici, in America ci sono due partiti principali, che sono appunto i democratici e i repubblicani, Trump è un presidente con i repubblicani, al momento i democratici hanno la maggioranza nella Camera e i repubblicani hanno la maggioranza nel Senato. Quindi, secondo i democratici, quello che è successo è che, di fatto, Trump ha fatto indebite pressioni sul presidente dell'Ucraina per rilasciare questi finanziamenti. Ovviamente, quello che viene sostenuto da Trump e dai repubblicani è che non è assolutamente vero. Quello che è successo è una normale conversazione telefonica tra due capi di Stato. Quello che Trump esprime è preoccupazione per il fatto che questi finanziamenti vadano effettivamente nelle casse dell'Ucraina e vengano utilizzati dall'Ucraina per scopi ovviamente positivi e costruttivi, visti i problemi di corruzione che il Paese ha. Da qui è iniziata la battaglia politica che ha portato i democratici a votare l'impeachment contro il presidente Trump su diversi capi di accusa. E qui, diciamo, è dove poi è avvenuta tutta la maggior parte della controversia politica. Perché c'è ovviamente un passato rispetto a questa storia. C'è il fatto che, e qui ovviamente cominciamo ad entrare più nel territorio delle opinioni che dei fatti, ma di nuovo cerco di mantenere questi fatti più neutri possibili, è vero che i democratici non hanno mai riconosciuto la propria sconfitta, non hanno mai accettato il fatto che Donald Trump potesse diventare presidente e non hanno mai riconosciuto la validità di questo voto, la validità politica, perché ovviamente la validità tecnica era innegabile. E di fatto sono stati promossi diverse iniziative che hanno sempre di più alzato la barra di ciò che non era mai avvenuto in precedenza. Forse in Italia avete sentito il famoso Mueller Report, il report fatto dall'investigatore speciale Mueller, appunto sulla presunta collusione di Trump con i russi per le elezioni del 2016. L'accusa era che Trump aveva lavorato con i russi per non far vincere Hillary Clinton. Di nuovo c'è stato qui un processo, c'è stata una procedura altamente politica, anche qui moltissime controversie, si è risolto con nulla di fatto. Quindi la problematica principale qui è che un po' è un cane che si morde la coda perché i democratici contestano che Trump è un presidente che divide molto, ma i democratici non perdono mai un'occasione o per insultare il presidente Trump o per insultare i suoi elettori. E diventa difficile poi distinguere le responsabilità quando non si cerca di instaurare un dialogo oppure si cerca di instaurare un dialogo dicendo che i risultati delle elezioni non contano. Dopodiché se i repubblicani accettano di sbarazzarsi di Trump possiamo cominciare a parlare. Non è esattamente un modo costruttivo di instaurare una relazione. E la problematica principale è che i democratici hanno tenuto ostaggio questo paese con tutte queste iniziative che si sono sempre rivelate poi di fatto in un nulla di fatto. La cosa più allarmante è che in un sistema bipolare come quello americano dove ci sono democratici e repubblicani è necessario un dinamismo positivo. Negli ultimi tre anni per le iniziative dei democratici in questo paese non si parla molto di politica, si parla sostanzialmente se e come il presidente Trump deve essere abbattuto dal suo ufficio. E questo, se sei democratico, se sei repubblicano, dovrebbe essere una preoccupazione. Qui non si parla dei problemi urgenti che riguardano la crisi degli opioidi, c'è una crisi di droga incredibile in questo paese. La riforma del servizio sanitario nazionale. Anche questo, so che in Italia ci sono alcune idee che non sono esattamente precise e anche se qui, se volete, potremmo fare un approfondimento. Il problema di infrastrutture o di classe media, il fatto che, vi do un numero che vi può sembrare incredibile, ma l'85% degli americani vive paycheck by paycheck, cioè vive assegno dopo assegno, qui si viene pagati ogni settimana, ogni due settimane, le famiglie vivono così, non ci sono risparmi, qui non esiste la liquidazione come esiste in Italia, se uno vuole risparmiare dei soldi per la pensione lo deve fare di fatto in modo privato. E poi c'è il problema dell'immigrazione, problematica, questo sarà l'oggetto di un altro approfondimento se volete. Presidente, sta di fatto che non si parla di politica, ma si parla di come sbarazzarsi di un Presidente o di come difendere un Presidente. Questo, anche dal punto di vista dei repubblicani, porta a una dinamica ovviamente di conflitto e non costruttiva. Il Presidente Trump è un Presidente, fa cose giuste, fa cose sbagliate, fa cose buone, fa cose cattive, fa cose costruttive e cose meno costruttive. Di questo non si può parlare perché la discussione è no, il Presidente Trump deve rimanere o no, il Presidente Trump deve essere cacciato via. Su quello che sono poi, e qui concludo, l'aspetto principale è che le elezioni saranno quest'anno, quindi tutta questa iniziativa dei democratici è alquanto, diciamo, dubbia per due motivi. dubbia quantomeno nei risultati. La ragione principale è il fatto che il Senato vota sull'impeachment e sulla condanna e il Senato ha una maggioranza repubblicana, quindi ci vuole una maggioranza di due terzi, come vi dicevo. Quindi la possibilità che il Senato repubblicano con un partito democratico che è così, diciamo, arroccato sulle sue posizioni è così irragionevole, che non discute di politica ma discute su come abbattere un Presidente democraticamente eletto, non nel reame delle possibilità non si vede come i senatori repubblicani possano votare insieme ai senatori democratici per condannare il Presidente. In ogni caso, le allegation, i capi di accusa, molti democratici hanno anche contestato il fatto che sono talmente generici e non focalizzati su dei precisi eventi che è difficile qualificare, anche se questo giudizio politico è difficile qualificare questi fatti come dei reati sufficienti o una malcondotta sufficiente per condannare un Presidente e rimuoverlo dall'ufficio. In ogni caso, bisogna tenere presente che ci saranno le elezioni e quindi la condanna dell'impeachment potrebbe comportare per un Presidente che è stato rimosso l'impossibilità per ricandidarsi, ma ovviamente questo è un scenario quasi apocalittico perché 50 milioni di persone hanno votato Trump e chi ha votato Trump nel caso di rimozione dall'ufficio sicuramente non rimarrebbero tranquilli perché la parte conservativa del Paese, se volete, è quella più silent, è quella più quieta, però sicuramente sono persone che hanno manifestato una scelta e quindi sarebbe difficile in ogni caso politicamente, questa però è una valutazione, sarebbe difficile impedire a Trump di candidarsi di nuovo. E a quel punto che cosa succede? Un altro impeachment? Altri quattro anni dove il Paese è ostaggio cercando di trovare un modo per sbarazzarsi di questo Presidente? La verità un po' amara, un po' triste è che il confronto dovrebbe essere squisitamente politico e non cercare una scusa giudiziaria o quasi giudiziaria per sovvertire quello che è stato un risultato politico. I democratici hanno una grande possibilità che è quello di fare politica, è quella di ascoltare i reali problemi della gente, proporre soluzioni che la gente condivide e vincere le elezioni, questo è quello che dovrebbe avvenire e quello che è successo fino adesso, perché quando Obama ha vinto non è stato un plebiscito, non ci sono stati il 90% degli americani che hanno votato per Obama e a tutti piaceva Obama. Obama è stato un Presidente estremamente controverso, i cui risultati politici sono dubbi e oggi la sua eredità viene valutata un po' più in modo neutro e viene visto che di fatto è stato un mandato abbastanza annacquato, abbastanza scialbo, ma i repubblicani non hanno mai pensato, anche nei momenti di maggiore contraddizione con Obama, di cercare un qualsiasi appiglio per un impeachment per sbarazzarsi del Presidente in carica, che è il Presidente di tutti, cosa che i democratici non si vedevano una cosa del genere nei tempi di Reagan e si è visto poi la storia come ha valutato Reagan, uno dei Presidenti di fatto migliori della storia americana. Quindi come vedete c'è moltissimo, forse quello che vi ho detto oggi vi ha dato delle informazioni in più o degli angoli di prospettiva che magari appunto non ricevete dai mainstream media, da quelli che sono ovviamente i telegiornali classici. Ripeto, cerco di darvi un'opinione neutrale, ma quello che mi fa parlare principalmente è la passione e l'amore per questo paese dove sono nato, la ragione per cui vi do queste informazioni è perché sono cresciuto in Italia, un paese che amo così come amo gli Stati Uniti. Quindi spero che questo video vi abbia dato degli spunti interessanti, questo ovviamente è un argomento che ha molti dettagli ed è un processo in corso, quindi sicuramente vi daremo altri dettagli e prima di salutarvi ovviamente vi ricordo di sottoscrivervi al nostro canale, di attivare le notifiche e ovviamente ci potete trovare sulla nostra piattaforma digitale che ha il website, i social media. Quindi mi raccomando fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo video e se avete domande o altre curiosità ovviamente fatecelo sapere. Qui dal New York per voi è tutto, un saluto da LivingTV e ci vediamo la prossima volta. Ciao! Ciao! Ciao!